Noi Vincenzo Schettini, professore TikToker di successo. Ciao Valentina, buongiorno a voi, grazie. Seguitissimo soprattutto dai più giovani, com'è nata l'idea di portare la fisica, ricordiamo quella pagina La Fisica che ci piace, sui canali social più emergenti, appunto come TikTok? Ho capito che i social potevano essere un enorme, potevano rappresentare un'enorme potenzialità per il mio messaggio, cioè per l'insegnamento di una materia così strana, così ostica come la fisica. Tu hai nominato TikTok, è stato uno dei miei ultimi esperimenti, quello è stato un suggerimento degli studenti, perché loro mi dicevano prof, ma insomma sta su YouTube, sta lì, sta qua, sta su Instagram, le manca TikTok. E quindi sono arrivato anche su TikTok, insomma, il resto, the rest is history, come direbbero gli inglesi. Ci sono delle figure a cui ti ispiri in quanto divulgatore, in quanto docente, in qualche modo? Bellissima domanda. Allora, ti sembrerà strano? La mia ispirazione non sono tanto i divulgatori scientifici, ma personaggi, ad esempio, come Fiorello, che ha dimostrato una grande versatilità, insomma. Io mi sento molto simile a lui. Lo so che sembra strana come cosa, ma in realtà è così. Come è bene approcciarsi alla fisica e anche alle altre discipline durante l'estate? Bisogna studiare, bisogna riposarsi. Consiglio numero uno, riposatevi, andate al mare, in montagna, eccetera. Consiglio numero due, uno. Consiglio numero due, rimanete vispi, open, diremmo in inglese, stay focused, state focalizzati su quello che vi circonda. Perché se mi chiedi di fisica, la fisica è intorno a noi, la fisica è nelle cose semplici della vita, anche quelle più complicate, devo dire la verità. Quindi rimanete connessi con quello che c'è intorno. Osservate il mondo da un altro punto di vista. Terzo consiglio, però importantissimo, continuate a leggere. Mai smettere di leggere. I libri, il cartaceo, ragazzi, il messaggero, il giornale, il profumo della carta. Perché la lettura lascia sviluppare il nostro spirito critico. Nel mondo di domani, più che nel mondo di oggi, servono persone con grande spirito critico e con grandi competenze. Lasciatevi catturare dal mondo delle competenze durante l'anno scolastico e sviluppate il vostro spirito critico sempre, anche in estate. Ci sono delle tecniche che in qualche modo ci permettono di studiare in modo più efficace. Diciamoci in verità, non esiste il metodo di studio. Esistono delle tecniche che, combinate, possono rendere molto efficace il proprio metodo di apprendimento. In generale, ecco, non parliamo del metodo di studio per la fisica, ma per le materie, di avere un ambiente favorevole allo studio. E non è la vostra cameretta, necessariamente. L'ambiente favorevole è una cosa che, è quell'ambiente nel quale uno si trova bene. Può essere anche la cucina di pomeriggio, perché la mamma ha finito di fare i servizi e tu ti trovi bene su quel tavolo. Sembra strano, ma è così. Quindi, favorite quelle direzioni che sembrano essere positive come ambiente. Un consiglio numero due è sviluppare la concentrazione, aumentarla. E come? Eliminando il telefonino. Ma non lo so che sto dicendo una banalità, lo so, però è così. Disattivate tutte le notifiche. E terzo e ultimo consiglio importante per sviluppare un proprio metodo di studio e cercare in tutti i modi di trovare gli orari giusti. Dove, a che ora io ho più feeling con lo studio. La sera? Perfetto. È la sera che dovrò farmi spazio. Non escludendo mai il weekend, perché uno pensa, ok, arriva il sabato, arriva la domenica, io mollo, non studio più. E sabato non studio più. E chi l'ha detto? Perché quelle due ore prima di uscire il sabato sera, tu ti rendi conto che lo fai una volta e quelle due ore sono fondamentali. Fai un sacco di cose. Sfruttale. Devono essere gli altri che ti devo dire. Non studiare il sabato. Quindi attenzione a questi tre consigli fantastici. Grazie a Vincenzo Schettini per essere stato con noi. Grazie. A voi.